Sicurezza del transito veicolare al centro della tensione per il restyling del manto stradale che sta riguardando diversi quartieri della città. Con un intervento di 70 mila euro saranno eseguiti interventi di manutenzione straordinaria di Viale Sant'Agostino nel tratto ammalorato compreso tra Viale della Tecnica e Via Breganzola. Gli interventi sono stati progettati dal servizio di infrastruttura e gestione urbana del comune e verranno coordinati con Via Acqua nell'ambito dei lavori già realizzati di posa della nuova fognatura. Approvato il progetto definitivo dell'intervento di asfaltatura che prenderà il via entro la primavera 2023 in base all'andamento stagionale e alle temperature. I lavori si protrarranno per circa dieci giorni. Andremo insieme a Via Acqua ad intervenire sull'asfaltatura del tratto di Sant'Agostino un ripristino che Via Acqua doveva fare per una sola carreggiata. Il comune aggiunge la cifra necessaria per ripristinare l'intero tratto stradale quindi bonifichiamo definitivamente un tratto stradale molto ammalorato riconsegnandolo alla città in piena sicurezza. Nel tratto di Viale interessato dai lavori saranno anche messi in quota i chiusini esistenti e tracciata la segnaletica orizzontale.